Buon pomeriggio, Iosefi! Sono tornato a Macerata ed ho intenzione di farti tremare la cosina tutti i giorni! Mentre oggi, 26 dicembre 2016, data fittizia del pianeta Sa, il Papa allucinato ammetteva di aver fondato l'impero della cacca, impresa notevole, uscivano le foto ufficiali del pene di Berlusconi. Il fatto curioso è che tutte le donne si sono nettamente divise in due, tra quelle che non hanno visto nulla in quanto micropene e quelle che invece ricordano estasiate le notti di Arcore come attraversate dalla Transiberiana, poiché il mistero è trascendentale, che queste ultime siano portate in televisione a dare spiegazioni. Dopodiché Berlusconi, tra avere zero ed una vagina, scelse quindi di cambiare sesso, di diventare Silvia. Ma questa è un'altra storia. Ci vediamo nei prossimi. Videomessaggi! Grazie. Grazie.